Diario di vita parlamentare di un componente della Commissione Giustizia del Senato, commissione molto impegnata in questa fase. Come sapete stiamo lavorando sul disegno di legge Nordio, questa mini riforma della giustizia però molto rilevante, della quale vi dirò di più quando entreremo più nel vivo dei lavori. In questo momento stiamo facendo audizioni di esperti come si fa di solito quando si lavora su un provvedimento importante. Poi qualche giorno fa vi ho raccontato del decreto legge Caivano, poi devo dire che ieri è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno, sebbene atteso questo decreto legge da convertire in 4 e 4 8 perché la Camera ci ha messo tantissimo ad approvare il disegno di legge di conversione, la maggioranza non trovava un accordo quindi ce l'hanno mandato a pochi giorni dalla scadenza, decadrà a fine settimana e quindi non potremo far altro che cuocerlo e mangiarlo. Abbiamo cominciato ieri, finiremo oggi e voglio un po' raccontarvi di questa storia perché dice molto di più di una questione puramente procedurale. Quindi proprio di questo vi parlerò oggi che è il 4 ottobre 2023, io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia al giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Come succede spesso nei giorni centrali della settimana, oggi non voglio parlarvi di una decisione del governo, di una linea politica che la maggioranza sta portando avanti in Parlamento, voglio raccontarvi in particolare di una questione procedimentale, procedurale, perché è mia opinione che la natura di un governo e di una maggioranza parlamentare non si desumano soltanto dalle cose che fanno, dalle cose che decidono, dagli obiettivi che intendono perseguire, ma io penso che anche il modo nel quale questi obiettivi vogliono essere raggiunti ci dice qualcosa della natura di un governo e della maggioranza che lo sostiene. Il modo di rapportarsi con l'istituzione parlamentare, con le Camere che sono la massima sede della democrazia, della rappresentatività popolare, ecco, sono tutti elementi che ci danno chiaro il senso della natura e del modo di essere di un governo e di una maggioranza. E così voglio raccontarvi di questo decreto legge che è arrivato in Senato ieri e che oggi approveremo nel giro di neanche 24 ore, proprio cotto e mangiato, che arriva dalla Camera dei Deputati, che l'ho approvato il 28 di settembre del 2023, quindi pochi giorni fa, che si chiama, già il titolo dice molto, Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 10 agosto 2023 numero 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute, di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Come capite si tratta di uno di quelli che in gergo vengono chiamati decreti legge omnibus, come un autobus, cioè sono dei veicoli nei quali si infila la qualsiasi, qualsiasi cosa si voglia fare, qui si va dal processo penale agli incendi boschivi, alle tossicodipendenze, alla cultura e già questa è una cosa che non va, è un vezzo diciamo così che molti governi hanno avuto ma che non per questo diventa più accettabile. I decreti legge come tutti sapete sono provvedimenti che vengono adottati in caso di necessità e di urgenza, sono provvedimenti con i quali il governo fa proprio un lavoro, fa proprio una funzione che non è sua, cioè quella di fare le leggi, ma la Costituzione lo prevede perché dice se succede qualcosa di improvviso rispetto alla quale non si può percorrere tutto l'iter di approvazione di una legge, diamo al governo la possibilità di fare una legge urgente, poi sarà il Parlamento a convertirla nel giro di due mesi. Ebbene quando in una legge ci si mette tutta questa roba già vuol dire che c'è qualcosa che non va. In secondo luogo questo disegno di legge come vi ho già detto in alcune occasioni in questo podcast si occupa, anzi questo decreto legge, questo disegno di legge che converte il decreto legge si occupa di norme in materia penale, in questo caso di procedura penale e ho avuto, vi dicevo, già occasione di esprimere la mia opinione in materia. Io penso che mai un decreto legge debba occuparsi di materia penale perché è una materia che ha a che fare con i diritti dei cittadini, con le libertà dei cittadini e i decreti legge sono decreti legge che vengono emanati per definizione in modo urgente, quindi senza la necessaria ponderazione, senza la necessaria riflessione e questo governo è una cosa che ormai ha fatto più volte, ve ne parlavo pochi giorni fa a proposito del decreto legge cosiddetto caivano, quello che va a mettere le mani nella giustizia minorile, ma vi ricordate abbiamo approvato e convertito il decreto legge rave, abbiamo approvato e convertito il decreto legge cutro, quello con l'orbe terraqueo, insomma veramente un sacco di reati e pene aumentate che è un'abitudine di questo governo, ma è un'abitudine di solito secondo me poco accettabile, ma quando accade poi per decreto legge veramente una cosa sbagliata, sono norme che sono già in vigore, sono norme che vengono alla luce e vengono applicate immediatamente, se poi il Parlamento nel convertire il decreto lo modifica, quelle norme comunque hanno avuto efficacia e hanno inciso sulla condizione, sullo status delle persone, questo è sbagliato perché sono norme che poi pur essendo norme penali hanno avuto una vita di 45-50 giorni e chi è entrato in contatto con quelle norme, chi vi si è imbattuto poi si trova in una situazione particolarmente complicata, poi è un decreto legge che come vi ho detto dobbiamo convertire in pochi minuti, perché questo decreto legge vi dicevo si chiama decreto legge 10 agosto 2023, ora ci siamo detti che i decreti legge avranno 60 giorni di vita, hanno 60 giorni di vita, quindi due mesi per essere convertiti, il 10 agosto si fa presto a fare i conti, fa sì che questo, dato che il 10 agosto è la norma, la data di emanazione, sarà il 10 ottobre, il 9 ottobre, poi i giorni sono 31 o 30, quindi il 9 ottobre sarà la data di decadenza di questo decreto, oggi vi parlo ed è il 4 di ottobre, capite che i giorni sono veramente pochissimi perché poi deve andare in gazzetta ufficiale, deve fare tutto il suo percorso, quindi questo provvedimento arriva in senato ieri, ci hanno dato un termine emendamenti, cioè la possibilità di presentare proposte emendative che è stato ieri alle 17 e 30 e noi abbiamo cominciato a lavorarci alle ore 13, quindi pochissime ore, oggi il governo metterà la fiducia e noi praticamente questo decreto legge non lo abbiamo proprio visto in senato, non abbiamo potuto far altro che prenderne atto, quindi questo mi fa molto rimpiangere la nostra riforma costituzionale perché con la riforma costituzionale cosiddetta Renzi-Boschi noi creavamo una sola camera legislativa e viva Dio era una camera che esaminava leggi, decreti e quant'altro, invece adesso siamo in due ma è chiaro che c'è un monocameralismo non solo di fatto ma poi alternato per cui ogni camera vede solo metà delle leggi e poi tutto viene fatto veramente in pochi minuti, la funzione legislativa del senato e anche dei singoli senatori viene completamente meno, io voglio ricordare che c'è stata nel 2019 una pronuncia della corte costituzionale quando il gruppo del PD fece ricorso davanti alla corte perché la legge di bilancio il senato non l'aveva proprio vista praticamente e la corte costituzionale disse che ciascun parlamentare può sollevare conflitto di attribuzioni, conflitto di poteri davanti alla corte se la sua facoltà e dovere anche di esercitare la funzione legislativa viene meno e questo è un classico caso in cui è successa una cosa di questo genere, questo perché poi la maggioranza ha litigato alla camera, il punto vero è che alla camera ci hanno messo tanto tempo ad approvare questo disegno di legge, a convertire il decreto legge perché la maggioranza non era d'accordo al proprio interno e quindi l'hanno tirata a lunga e adesso che hanno trovato finalmente un accordo in qualche modo il senato è costretto a provarla così com'è. Vi dico un'ultima cosa giusto per farvi capire la follia di tutto questo e anche quanto un governo giustizialista che si proclama garantista però è giustizialista noi abbiamo un articolo articolo 6b mi pare di questo decreto che introduce un nuovo reato a carico di chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano, Ursus Arctos Marsicanus. Ora potete mai pensare che noi abbiamo il reato di abbattimento dell'orso marsicano? Io non ho parole e vi dirò che ho presentato un emendamento per abrogare le parole bruno marsicano che almeno tuteliamo tutti gli orsi e non soltanto gli orsi bruni marsicani. Io lo so che fa ridere ma a me vi dico la verità cascano le braccia. Io mi fermo qui ahimè e vi do appuntamento a domani. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.